Il trovo molto più fluido del mio, anche la connessione è molto migliore, non c'è praticamente lag. Hai giocato una quarantina di minuti e ha perso quanta batteria? Circa il 10%. Come ti sembra la temperatura? È normalissimo, è veramente bello l'audio, è immersivo molto. Ammazza, è proprio potente. Grazie Gabri. Di nulla. Bene amici, sì, aveva tantissimo senso far provare questo ROG Phone 7 Ultimate a Gabriele, perché è lui il videogiocatore di famiglia, tamarrissimo, con delle implementazioni interessanti, anche della ventola, che non fa solo ventola, ma contiene dei woofer e anche dei led, come avete visto, ma tempo al tempo, un telefono che, vi dico subito, appena l'ho preso in mano per la prova, l'ho smanettato 10 minuti e ho detto, wow, vibrazione, bomba, display, bomba, audio, bomba, sì, ok, un po' pesante, oltre 200 grammi, ben oltre 200 grammi, un po' spesso, oltre 10 mm, ma oh, mi è piaciuto. Andiamo a scoprirlo nella recensione completa. Sì, a qualche ma anche lui. Però, vabbè, dopo. E che sia un telefono da gaming lo si capisce già dalla confezione. No, non perché è completissima con una coverina che protegge bene gli angoli, anche se è un po' di plastica, con la ventola che è anche trigger led, l'avete vista prima, il portaventola, tutto di serie nella versione ultimate, l'alimentatore da 65 watt esce Type-C, batteria da 30 wattora, o meglio, due celle, si carica in 20 minuti del 50%, in 42 minuti del 100% il cavo dati, ma perché già questa parte, che è la chiusura della scatola, è un gioco nel gioco. Quando farete la configurazione iniziale, vi chiederà di appoggiare qua il telefono, e succederanno cose, probabilmente c'è un NFC, capisce che è la sua custodia, non vi dico cosa per non togliervi la sorpresa, ma veniamo a lui. Molto, molto bene lo sblocco sotto al display, vi dicevo prima, grosso, pesante, 239 grammi, ma comunque ben bilanciato e USB-C da questa parte, USB-C sotto, questa perché al massimo la potete caricare anche tenendo così continuare a giocare, oltre che per collegare gli accessori, uscita video, attenzione, il jack per le cuffie, con un ottimo DAC, accensione e spegnimento e volume, i due air trigger, quindi pulsanti virtuali, e dietro il display, che si è visto anche sugli altri ROG, non è una novità, arrivano le notifiche, fa cose strane, ma soprattutto il LED di notifica, quindi quando voi lo lasciate così, lampeggia, e anche senza un always on, che pur c'è sempre attivo, vedrete se c'è qualche notifica, e comunque si accenderà anche qua dietro, perde un po' di smalto sul comparto fotocamere, 50 megapixel la principale Sony, 8 megapixel la macro inutile, e 13 megapixel la wide, con l'anteriore da 32 megapixel, molto bene il display, ma volevo subito farvi vedere una cosa, perché l'audio è da paura, mi ha stupito, e vi dicevo, nell'air cooler c'è anche un subwooferino, allora, appena lo si collega, vedete, viene riconosciuto al volo, ci dà la temperatura del sistema e del cooler stesso, ma che bomba, ragazzi, alzo il volume al massimo, e sentite come pompa, vado un po' avanti, dove ci sono i bassi, è incredibile, veramente un audio pazzesco, tra l'altro bellissimi i led qua dietro, ovviamente anche loro sono personalizzabili, ma adesso ve lo tolgo, schiacciando qua, sopra viene anche replicato il pulsante accensione spegnimento, e i bassi, è vero che sono scesi un po', ma non così tanto, e l'audio è proprio bello stereofonico, esce quasi da davanti, come se le casse facessero vibrare lo schermo per farvi sentire in maniera notevole, uno dei migliori, se non il miglior audio provato ultimamente, ma torniamo indietro, sì, stavo giocando, perché è pure un telefono da gaming, abbiamo fatto vedere e capire che funziona benissimo, anche i giochi a 165 Hz, c'è la classica applicazione che si chiama Amory Create, che serve per andare a raggruppare un po' tutti i giochi, quindi c'è anche quanto avete giocato gioco per gioco, ma serve anche per andare a settare la console, che vi fa vedere le temperature, che vi fa scegliere la modalità, quella massima potenza, dinamica o ultra resistente, sono tra l'altro personalizzabili, e qua sotto il Rock Vision, quindi il famoso pannellino OLED, qua dietro, diciamo abbastanza inutile, le impostazioni dell'air cooler, eccetera, 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 insomma un po' la gestione dei giochi, qua c'è la schermata di Asus, dove si va a fare un po' di social con gli altri videogiocatori, qua tutti i giochi con una raccolta di quelli che vanno a 165, 144, 120 Hz, e qua il proprio profilo, ci sono ovviamente i trigger qua sopra, che vi faccio vedere, sono per qualche gioco comodissimi, si vede la differenza tra Boomer, io e mio figlio, lui che gioca a PUBG, io che gioco a questo gioco, che è fantastico, vedete io ho mappato gli air trigger, per schiacciare in questo punto, e in quel punto per il freno, questo gioco è una droga, quando si inizia non si smette più, anche perché poi ci sono tutti i potenziamenti della macchina, ma vedete qua freno, e qua accelero, ma non solo perché facendo così, si entra in questa ulteriore console, dove si possono creare delle macro, dove si può mappare la vibrazione, per far sì che se schiaccio in qualche punto, la vibrazione è diversa, e è una funzione che mi è piaciuta veramente tanto, e poi la mappatura appunto degli air trigger, staccare la rete, andare in non disturbare, blocco delle chiamate, insomma l'interfaccia gioco di Asus, la conosciamo, non è cambiata rispetto al passato, tra l'altro, gli air trigger possono essere usati anche per fare altre cose, io per esempio ho settato la pressione prolungata, vedete, per entrare automaticamente in modalità X, ma le impostazioni si possono cambiare, anche per esempio per chiamare l'assistente vocale, ecco non è una funzione, che mi ha fatto impazzire, perché si fa un po' fatica, devi schiacciare qua sotto, trovare la potenza giusta, anche se è settabile il livello di pressione, per attivare il trigger, ma vabbè, comunque c'è, e non me ne lamento, insomma bomba, wifi 6e, dual band bluetooth 5.3, uscita video, ok android auto, ok pay, ma la batteria in tutto ciò, soffre, ve lo faccio vedere subito andando negli screenshot, allora ne ho fatti un po', questo forse è il più significativo, 6 ore e 47 minuti di display, 43 minuti di pubg, e guardate, ero a sera con il 17% di batteria, una scarica costante, uso stress, 20-25% a sera, non è un battery phone, ma regge tranquillamente, anche un utilizzo veramente importante, ma soprattutto tante ottimizzazioni per la batteria, quindi, la possibilità di settare la camera lenta, possibilità della carica, la ricarica lenta, la carica pianificata, e anche il limite massimo di carica, 80-90% o 100% per preservare la batteria nel tempo, mi sono veramente piaciute tutte queste ottimizzazioni, ottimizzazioni che ci sono anche qua, nelle impostazioni avanzate, dove possiamo andare a gestire un po' l'interfaccia, non ha molte differenze rispetto a Android stock, ma ci sono delle funzioni, comunque personalizzate e interessanti, torniamo a bomba, il display 6,78 pollici, molto 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 bello, perché 1500 nit di luminosità massima, bei colori, tra l'altro possibilità di settarli a piacimento, non ci sono fuori nel display, è vero che c'è un pochino, è un pochino, un po' di striscia sopra e sotto, ma voglio dire apprezzo il fatto che non ci siano buchi, e angolo di visuale perfetto, neri perfetti, insomma veramente molto bene, tra l'altro un nota di merito proprio alla dissipazione del calore, perché è ottimo, è un telefono che anche senza air cooler, ovviamente quando si gioca un po' si scalda, con l'air cooler veramente poco, ma il calore viene dissipato veramente decisamente bene, allora chiamata 190 dialer stock, non mi fa impazzire perché non vi avvisa se arrivano chiamate spam, ma c'è la possibilità di registrare le chiamate, e voilà sentite, che volume, anche per le chiamate audio, gli altoparlanti sono una bomba, si riesce a chiamare anche in macchina, anche a velocità elevate, anche con Casino, torniamo adesso la modalità X, per farvi vedere come anche così sia un telefono, che ha una velocità pazzesca per fare ogni operazione, e la cosa che mi è piaciuta tanto, no non sono le storie di Instagram, ahimè ragazzi non è tanto un telefono da social, perché ha la qualità delle cam, b la mancata ottimizzazione per Android, insomma le storie un po' così così, anche le foto un po' così così, ma se andiamo a scrivere qualcosa, è uno dei telefoni più veloci per scrivere, un po' perché il feed della vibrazione è perfetto, tac 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 tac, preciso, vi dà proprio i tocchi, e poi non si riesce a, sì non si riesce a sbagliare, cioè è difficile sbagliare, perché prende veramente bene il sampling del touch, insomma super promosso da quel punto di vista, e poi la velocità è una bomba, per fare tutto con questo processore, 16 giga di RAM, 512 UFS 4.0, però non espandibili, è ovviamente dual sim, una cosa su cui consiglierei a ASUS di lavorare, è il software, non tanto il software, quanto gli aggiornamenti, perché è ok Android 13, ma gennaio 2003, siamo ad aprile garantiti, due major update, quattro anni di patch, lavorerei un pochino di più su questo aspetto, ma parliamo delle foto, che è l'altro aspetto dove lavorerei, non tanto sull'interfaccia, che va bene, ci sono anche tante funzioni, carine, quanto sul risultato del punte scatta, video tra l'altro si possono fare fino all'8K, 24 frame per secondo, ma non c'è la stabilizzazione ottica, ma i colori sono un po' così così, adesso vi faccio vedere qua, con le foto che ho fatto in questi giorni, ovviamente non c'è camera zoom, questa è la 1x, questa è la grandangolare, questa è la zoom che va a interpolare, fino a 3x più o meno, non ci sono problemi, ragazzi questa foto, questo papavero, secondo me è inguardabile, questo rosso sembra tutto impastato, i video, recensione a questo, arriva presto, un orologio che mi è piaciuto particolarmente, ma ho fatto dei clip con questo telefono, e devo dire abbastanza bene, abbastanza bene, però torniamo su un così così, tornando alle foto, di questa magnifica RS3, che Audi, non me la fai più scoppiettare, perché? In senso del termico ormai, è solo fare brum brum brumore, scoppiettire, questa non scoppietta più, ma va fortissimo, è un missile, su Tech Drive, la recensione, o meglio il test drive, andate a scrivervi a Tech Drive, perché facciamo i test drive pazzeschi, ma tornando a bomba, il mio studio è nuovo, con le luci nuove, con poca luce, soffre anche un pochino di più, insomma, foto e video da medio gamma, mi chiedo perché non spingere, anche in questo comparto, forse amplierebbero il pubblico, secondo me, sì, l'audio ve l'ho già fatto sentire, le applicazioni ve lo fate sentire, sto andando lunghissimo, a destra c'è la classica interfaccia stock di Google, molto veloce anche il Wi-Fi, insomma, va bene, è un telefono che va bene, ma è caro, è vero che è in linea con le spec, è vero che è in linea con gli ultimi trend, 1429 euro l'Ultimate, con tutti gli accessori che ho fatto vedere prima, forse il 712, 14256 a 1029 più a fuoco su tutto, il telefono più provato ultimamente, più veloce, più completo, più tamarro, c'è un unico minus, la qualità delle foto, dai Asus, migliora anche lì e nella frequenza degli update, fallo un filo meno tamarro e pesante, siamo sulla strada giusta per il telefono, perfetto, così rimane un po' di nicchia, un saluto a Andrea Galeazzi, punto com. Grazie a tutti.